Sì, ma si può più fumare in spiaggia. Secondo voi è giusto il decreto che è stato approvato? Giusto. Anche per la plastica? Anche per la plastica, naturalmente. Sì, io lo condivido. Condivido il fatto che non si possa fumare in spiaggia, perché oltretutto è anche anti-ecologico. Anche per quanto riguarda la plastica e i musoli? Assolutamente, sì. Sono d'accordo che la gente in spiaggia non deve fumare. Se devono fumare ci sono gli appositi postini per fumare, uno va là e fuma, come faccio io. Adesso mi vado a fumare e vado a fumare fuori. Ma per me è indifferente, non mi dà fastidio, quindi è indifferente. Per lei? Io non fumo. Comunque a prescindere che non fuma, secondo lei è giusto? Non è giusto questo decreto? È indifferente. Siamo d'accordo? D'accordo. Va bene. Anche per la plastica? La plastica soprattutto, anzi la plastica ancora di più. Va molto bene. Ho trovato, ho smosso la sabbia, ho trovato le cicche del sigaretta. È brutto. Quanto te fai così, te vedi le cicche. Va bene a levare il fumo sulla spiaggia. È contrario. È contrario. Però è possibile fumare sotto l'ombrellone se c'è ancora, quindi giustamente mi metto a fumare via. Signora? Io sono un'ex fumatrice, per cui è giusto, si rispetta l'ambiente. L'importante è che sotto l'ombrellone ci sia il posacenere in modo da accontentare tutti. Grazie. 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 Grazie.